dottor antonio cercello responsabile del servizio di cardiologia della clinica trusso il vostro team ha fatto diversi lavori scientifici e diversi avanzamenti in campo clinico effettivamente il servizio di cardiologia è cresciuto molto in questi ultimi anni questo grazie al melangement aziendale che ha investito sul servizio ma soprattutto grazie anche alle persone che mi hanno collaborato e coadiuato in questa funzione e quindi mi fa piacere presentare il dottor norman amaida molto esperto in cardiologia strumentale soprattutto in ecocardiografia ecocolordoppler poi la dottoressa giuseppina cristiano responsabile del reparto di lungo degenza dove noi solitamente non avendo un reparto di cardiologia appoggiamo i nostri pazienti scompensati e poi ultimamente è stato inserito nel gruppo della cardiologia anche l'infermiera sarapone che è un'infermiera dedicata alla cardiologia tutto questo è possibile grazie a questa collaborazione che noi abbiamo creato e voglio ringraziare anche il direttore sanitario il dottor giuseppe Ascione che ci è sempre vicino in queste iniziative e con questo grande lavoro di eccellenza sia clinica che di ricerca avete presentato dei lavori alla società italiana di cardiologia all'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e avete anche altri appuntamenti su cosa si sono incentrati gli ultimi lavori scientifici? Gli argomenti attuali della ricerca cardiologica sono orientati verso lo scompenso cardiaco e la fibrillazione atriana. I lavori che noi abbiamo presentato sia alla SIC che a NAMCO vertono tutti sullo scompenso cardiaco e questo perché con la pubblicazione delle ultime linee guida avvenute ad agosto 2022 la terapia dello scompenso cardiaco è stata completamente sovvertita. Infatti in gergo cardiologico si parla di quattro pilastri, cioè si è visto che il paziente scompenzato trae il giovamento dalla terapia se questi quattro farmaci importanti che sono il sacubitrine, vassartano, il dabaglifonsin, il beta bloccante e il risparmiatore di potassio vengono dati tutti e quattro insieme dall'inizio della sintomatologia. Nel momento in cui viene posta la diagnosi di scompenso cardiaco si inizia questa terapia. È cambiato perché prima i farmaci dovevano essere associati gradualmente, si partiva con due, poi si associava il terzo, poi si associava il quarto. Si è visto che tutto questo comportava soltanto una perdita di tempo per il paziente perché per raggiungere il target terapeutico ci vuolevano dai tre ai quattro mesi e quindi era tutto tempo perso per il paziente, nel senso che il paziente non raggiungeva quei vantaggi che la terapia gli poteva dare da subito. Quindi questo è stato il grande risultato. E mi fa piacere anche, diciamo, precisare, affermare che la nostra attività scientifica, oltre che essere riconosciuta da queste grosse società nazionali, è stato anche riconosciuto dagli esperti dello scompenso cardiaco. Infatti il 3 e il 4 marzo siamo stati a Firenze perché c'è stato un confronto tra esperti sullo scompenso cardiaco dove abbiamo parlato appunto delle ultime linee guida e la nostra soddisfazione è che una cardiologia piccola come è la cardiologia della clinica Trusso di Ottaviano era presente tra i 30 esperti a livello nazionale. E questa cosa avverrà anche il 13 giugno però per la fibrillazione atriane dove io sarò relatore in un congresso con 15 cardiologi della regione Campania dove parleremo di fibrillazione atriane perché anche nella fibrillazione atriane attualmente le linee guida sono cambiate e quindi è giusto che ci sia, diciamo, una dovuta informazione. Questo sempre con la finalità di offrire la migliore terapia ai pazienti cardiopatici. Parlando quindi proprio di questi pazienti, sia nello scompenso che è stato oggetto degli altri lavori che nella fibrillazione, ma concentrandoci sullo scompenso, un paziente oggi a cui viene diagnosticato uno scompenso cardiaco, quindi troverà una situazione diversa, verrà curato in modo diverso, stanno cambiando le procedure? Allora il primo consiglio che mi sento di dare è che il momento in cui un paziente lamenta un po' di dispenea, cioè un po' di affanno o lo avverta lui o lo riferisce al proprio medico, sarebbe utile che si sottoponga a una visita cardiologica perché il sindaco principale è proprio una dispenea. Questo perché? Perché molte volte si perde tempo facendo esami che poi si rivelano utili. Proprio ieri leggevo un lavoro dove si ribadiva l'utilità della clinica nello scompenso cardiaco, perché la diagnosi dello scompenso cardiaco è una diagnosi clinica. Tanto è vero che vince la classificazione NIA delle quattro classi che è basata su una clinica, cioè è basata su un'esistenza o meno della dispenea. Molte volte, ripeto, il paziente perde tempo perché pratica la radiografia del torace, cioè NATAC, sono tutti esami che possono sicuramente essere utili, ma che molte volte sottraggono del tempo al paziente per iniziare la giusta terapia. Quindi il consiglio che do sia ai pazienti, ma molto modestamente anche ai medici di famiglia, è che quando un paziente si rivolge a lui per dispenea, io direi che la prima cosa da consigliare sarebbe una visita cardiologica. E per le altre alterazioni, quindi stavamo parlando anche di elettriche del cuore, ci sono consigli anche su questo, su una diagnosi precoce? Sì, ci sono sicuramente consigli anche su questo, perché il paziente scompenzato, sottoposto alla terapia, può anche non avere un miglioramento clinico. Quindi in questi casi può essere utile un'applicazione di device che migliorano la contrattilità cardiaca e che proteggono il paziente anche da complicanze aritmiche, che nel caso dello scompenso sono delle complicanze gravi, perché si tratta di tagli cardioli ventricolari, che possono essere anche mortali. Quindi l'impianto di un ICD comporta una protezione maggiore per il paziente, perché nell'eventualità che dovesse insorgere una tagli cardia o una fibrillazione ventricolare, interviene il device e interrompe l'aritmia e quindi salva la vita al paziente.